Il Paradiso delle Signore 6. Le anticipazioni sul finale. Andiamo a vedere le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 25 al 29 aprile 2022. Nel video precedente abbiamo visto cosa è successo a Gloria, Marco e a Stefania. Adesso vediamo cosa accadrà agli altri personaggi e riguardo a Flora ci sono delle novità incredibili. La giovane stilista è decisa a lasciare Milano e l'Italia per sempre, dato che le è stata fatta un'importante offerta di lavoro negli Stati Uniti, perché non ce la fa più a vedere Umberto e Adelaide insieme. Sta soffrendo troppo. Ed ecco qui il colpo di scena. Umberto, ora che la sta perdendo, capisce quanto tiene veramente alla gentile. Così lascia Adelaide e ferma Flora, che non parte più per gli Stati Uniti. Adesso il padre di Marta Riccardo non può più vivere a Villa Guarnieri insieme alla cognata, è disposto ad andare via. Ma Adelaide giura vendetta e adesso è anche sosa del Paradiso delle Signore. Vediamo perché. Le vicende della contessa si intrecciano con quelle di Romagnoli. Dopo che Beatrice si è risvegliata dal coma, non ha più voluto rivedere Dante. Vittorio le propone di stare a casa sua durante la convalescenza e la ragioniera accetta. Dante, ora che ha perso Beatrice, è pentito di quello che ha fatto e dice alla cugina Fiorenza che ha rinunciato ai negozi con il Marchio Paradiso. Ha rinunciato alla vendetta quindi e per far capire che è davvero cambiato chiede scusa ai dipendenti del Paradiso delle Signore. Ma Vittorio Conti vede quanto la cognata sta soffrendo per la lontananza di Dante e dopo tutto il Romagnoli è pentito. Vuole bene alla madre dei suoi nipoti e così farà da cupido tra lei e Dante. Grazie al Conti i due avranno modo di riavvicinarsi nella puntata del 29 aprile, la puntata finale, al matrimonio di Anna e Salvo. Il personaggio interpretato da Luca e così decide di rinunciare anche alle quote del Paradiso delle Signore e le cede alla Contessa. Non sa che la Sant'Erasmo sta tramando vendetta contro il cognato.